Un saluto dal Tg della Mobilità. Prosegue l'estate dei lavori per la metro A dopo la chiusura delle stazioni Spagna e Ottaviano. Da oggi al 25 agosto la linea sarà sostituita con i bus tra le stazioni di Termini e Battistini. Il resto della linea sarà in servizio secondo le consuete modalità dal 19 agosto, poi chiuderà la stazione Furio Camillo destinata a riaprire nei primi giorni di novembre. Stop dei lavori invece sulla ferrovia Metro Mare nella settimana di ferragosto da lunedì a venerdì prossimi. Saranno sospesi il cantiere e la chiusura serale anticipata sull'intera linea con le ultime corse dai capolinea alle 23.30. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.